Ed eccoci tornati a parlare di una cosa che da una decina d'anni era un po' sparita I conti deposito Noi italiani si sa siamo dei gran risparmiatori Abbiamo proprio una cultura nel sangue del risparmio Secondo la Repubblica oltre il 50% degli italiani risparmia circa ogni anno il 10% del proprio reddito Non è pochissimo Insomma siamo dei veri e propri fenomeni a risparmiare Poi siamo un disastro a investire ma quello è un argomento per un altro video Ultimamente i tassi dei conti deposito si sono alzati parecchio E sono arrivati a pagare rendimenti che non c'erano da oltre 10 anni È normale quindi secondo me al momento chiedersi se abbia senso o meno investire i propri risparmi in un conto deposito O se ci possono essere delle alternative migliori O se invece al diavolo queste alternative investiamo tutto in borsa Oggi quindi vediamo se ha senso o meno il conto deposito Quali sono i migliori e soprattutto se bisogna muoversi ad aprirne uno prima che sia troppo tardi Iniziamo Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Prima di qualsiasi cosa facciamo un pochino d'ordine Cos'è un conto deposito? Sembra una domanda del cavolo ma molti soprattutto negli ultimi 10 anni non ne hanno mai visto uno Perché non aveva nessun senso aprirne uno Pagavano tipo zero Quindi che cos'è? È un normalissimo conto con però alcune differenze rispetto al classico conto corrente che abbiamo tutti Il conto corrente infatti lo conosciamo è uno strumento che può essere utile per fare pagamenti Per ricevere pagamenti di solito ci fornisce anche una o più carte Possiamo pagare il mutuo possiamo addebitare bollette fare qualsiasi cosa L'unico vero limite del conto corrente è il suo rendimento Ossia zero o addirittura qualcosina negativo se consideriamo che molti conti ormai hanno dei costi Il conto deposito invece è molto più rudimentale Questo perché non consente di farci pagamenti Non c'è una carta associata Non possiamo addebitarci bollette, stipendi o pensione Nulla Possiamo solamente versarci dei soldi e ritirarli La grande differenza però è che su questo denaro andremo a guadagnare degli interessi Ci sono poi due tipi di conto deposito In realtà tre ma più o meno sono due Il primo è il conto deposito vincolato Lo suggerisce il nome Noi versiamo una somma di denaro La vincoliamo, la blocchiamo per un toto di tempo Sei mesi, un anno, due anni, quello che è Non la preleviamo per tutto questo tempo E al termine riceveremo degli interessi più il nostro capitale La seconda categoria più importante sono i conti deposito svincolati Quindi non esiste alcun vincolo di tempo Noi possiamo prelevare, ritirare i soldi grosso modo quando ci pare Però uno, i tassi di interesse normalmente qui sono più bassi Due, sono variabili per cui possono aumentare e diminuire Ma questo dettaglio lo vediamo tra pochissimo Quindi wow, abbiamo tutti trovato il modo per guadagnare senza sapere niente di investimenti Deposito i soldi, magicamente vengono depositate degli interessi e così via No, mi spiego subito e dirò una cosa che molti detesteranno Il conto deposito non è un investimento Investire prevede tra le varie cose qualcosa che è imprescindibile Ossia il tempo I conti deposito possono essere a 6, 3 mesi, 12 mesi, 18, magari anche 2 anni Generalmente quindi parliamo di un orizzonte temporale breve Ben lontano dalle logiche ad esempio di un piano d'accumulo Dove noi versiamo magari 15 o addirittura 20 anni Ma quindi perché non è un investimento e a cosa serve un conto deposito? Come va utilizzato se non a fini di investimento? Aprire un conto deposito è utile per chi ha della liquidità che altrimenti non investirebbe Perché non può permettersi di investirla Per cui l'alternativa è lasciarli semplicemente lì fermi sul proprio conto corrente Aver tenuto nell'ultimo anno 10.000 euro fermi sul conto corrente senza fare niente Con l'inflazione più o meno del 10% che c'è stata Significa che abbiamo buttato letteralmente dalla finestra 1.000 euro Così Mentre se in quest'anno avessimo avuto un rendimento magari del 3% offerto dai conti deposito Ok, non ci ripagavamo un 9-10% di inflazione Ma è comunque qualcosa, è comunque meglio di zero E ma Pietro ma è poco il 3%? Certo è poco Ma ricordiamoci una cosa molto importante Che i depositi fino a 100.000 euro sono tutelati dal fondo interbancario di tutela dei depositi A livello nazionale Questo significa che è uno schema di compensazione che permette di stare relativamente tranquillo Perché se la banca fallisce interviene lo Stato O meglio interviene questo fondo che però di fatto è lo Stato Possiamo quindi dire tranquillamente che il conto deposito è uno dei pochissimi investimenti quasi senza rischio Metto sempre le mani avanti, dico quasi perché può succedere comunque tutto L'Italia fallisce, cose del genere Però questo è il motivo per cui i rendimenti sono così bassi Perché non c'è un rischio di controparte Che poi se parliamo di rendimenti di breve periodo In realtà al momento i conti deposito sono allineati anche a obbligazioni di breve periodo Ho trovato interessante questo studio di altro consumo proprio di qualche giorno fa Che paragona i rendimenti dei botte Quindi i buoni ordinari del tesoro, obbligazioni italiane sotto l'anno di scadenza Con i rendimenti dei migliori conti deposito disponibili sul mercato con sempre scadenza un anno E i rendimenti in realtà sono abbastanza simili L'unica differenza, che non è da pochissimo È che sul conto deposito paghiamo il 26% di tasse Mentre sui bot il 12,5%, quindi la metà Ovviamente ai costi dell'acquisto dei bot vanno aggiunte però anche le commissioni Magari costi di creazione di un libretto titoli e così via Quindi comunque potrebbero essere sulla stessa cifra Il discorso cambia però quando allunghiamo il nostro orizzonte temporale Quindi magari non quando vogliamo tenere dei soldi fermi per uno o due anni Ma per cinque In questi casi se io so che per cinque anni non mi serviranno minimamente questi soldi Ecco che potrebbe essere interessante valutare dei BTP Buoni del tesoro poliennali Non serve che vi dica cosa serve il nome Generalmente infatti questi titoli offrono al momento un rendimento maggiore dei conti deposito Anche considerato le tasse Sì ma quindi per chi è adatto il conto deposito Per chi sono adatte le obbligazioni Per chi è adatto invece al mercato azionario Facciamo un esempio ci sono Marco e Pietro Marco sa che l'anno prossimo dovrà acquistare la casa E che al momento sul conto corrente ha 100.000 euro Sicuramente Marco non è disposto a fare degli investimenti di lungo periodo Perché l'anno prossimo quei 100.000 euro gli servono Deve fare un grosso acconto della casa Quindi non può permettersi di perderli O che diventino anche solamente 90.000 Quindi sicuramente l'investimento in azioni è da escludere Siccome però al momento l'inflazione in Italia è intorno al 7-8% Tenere lì 100.000 euro fermi Beh rappresenta una bella perdita Per cui Marco potrebbe decidere ad esempio di aprire un conto deposito vincolato E limitare i danni In questo caso quindi la funzione del conto deposito è Parcheggio di liquidità Niente di più Non è l'obiettivo diventare ricchi Ottenere grandi rendimenti Semplicemente so che comunque dovrei tenere quei soldi fermi Tanto vale guadagnarci qualcosa Pietro invece non ha al momento delle spese previste da fare E nemmeno prevede di aver bisogno di soldi al momento Perché è già coperto, ha già un fondo d'emergenza eccetera Ha anche già una casa Ha quattro case a Dubai Per cui beh che senso avrebbe un conto deposito? È vero se io domani vado ad investire nel mercato azionario Nel breve periodo Anche medio periodo potrei perdere soldi almeno sulla carta Ma dal momento in cui quei soldi non mi servono a qualcosa nello specifico Che problema c'è? Se la stessa cosa accadesse a Marco non potrebbe comprare la casa Semplicemente perché non ha agito in sicurezza E come sottolineo spesso in questo canale Alla sicurezza bisogna stare attenti Non solo in questo caso Quando navighiamo su internet Stiamo cercando informazioni su un conto deposito Nel nostro sito del broker E in questo caso ci aiuta lo sponsor del video di oggi Ossia NordVPN Si tratta di un servizio che opera a 360 gradi Nel mondo appunto della sicurezza Avere NordVPN è un po' come avere un intero team di consulenti Che vi guida in tutto il percorso della navigazione online In questo caso non per tenere al sicuro la propria liquidità Ma i propri dati Infatti ci sono due app interessanti Nello specifico NordPass e NordLocker Con la prima vi verrà comunicata Qualsiasi violazione dei vostri dati online Quindi potete correre a cambiare la password E potete condividere le password tra dispositivi In totale sicurezza Mentre con NordLocker potete avere un'archiviazione cloud Con tanto spazio C'è veramente tanto spazio Crittografata end to end Quindi proteggendovi da eventuali malintenzionati o malware Anche quando vi scambiate dei file con qualcun altro Poi non solo Ci sono anche altri servizi Come ad esempio L'approvazione dai malware Come Threat Protection Il cambio di P per accedere a siti diversi dall'Italia E tanto altro Se volete approfondire i mille servizi offerti da NordVPN Vi lascio qua sotto il link in descrizione E al momento è inoltre attivo Un'offerta speciale Con la quale potete acquistare il piano biennale Con uno sconto esclusivo E in più avrete 4 mesi omaggio Quindi 28 mesi totali Vi lascio tutto qua sotto Ok, ora dovremmo aver capito Quando ha senso aprire un conto deposito E quando invece non ha senso farlo Perché ci sono alternative migliori Diciamo che però Allora siamo interessati ad aprirne uno Perché rientriamo in quella casistica Ok, quale apro Ce ne sono tantissimi In questo caso è molto semplice Basta andare su uno di quei siti Che compara i conti Ce ne sono davvero un sacco Prima di tutto bisogna indicare Il deposito iniziale Questo perché alcune banche Potrebbero richiedere un deposito minimo In questo caso Facciamo un esempio giusto per i calcoli Diciamo 30.000 euro Dopodiché dobbiamo indicare La durata del deposito Questo anche se è svincolato Non importa E quello che vedrete all'inizio È il tasso lordo Per ottenere il tasso netto Bisogna poi sottrarre le tasse Che abbiamo detto Che sono del 26% In più C'è anche l'imposta di bollo Che è dello 0,2% Questa volta però Sull'intera somma depositata Quindi in questo caso Sui 30.000 Poi ci potrebbero essere Altre varie spese Come apertura Chiusura del conto Un canone Stampa O invio di rendiconto Se uno li vuole cartacei Perché non lo so Tipo è pazzo Spese annue Per il conteggio degli interessi Roba del genere Poi bisogna sempre verificare Le clausole in piccolo Perché magari È un conto sì Svincolabile Come abbiamo detto Dell'inizio Però ci potrebbero essere Penali Cose del genere Quindi è sempre meglio Leggere tutto Io vi ho risparmiato Tutto questo lavoro E ho trovato quindi Quelli più interessanti Partiamo dai vincolati Ad un anno E a questo proposito Ci tengo a specificare Che non si tratta Minimamente di pubblicità Nei confronti di questi istituti Anche perché l'avete visto Cioè lo sponsor del video È un altro Io mi limito a raccontarvi Appunto quello che vedo online Il primo conto È offerto da banca sistema In questo caso L'imposta di bollo È a carico della banca Non ci sono spese extra E in questo caso Con 30.000 euro Andremo ad avere 823 euro Un rendimento netto Di circa il 2,74% Il secondo è di IBL banca In questo caso Il bollo non è pagato Dalla banca Dobbiamo quindi includere 60 euro di costi Da pagare per avere il netto Con le stesse procedure Di prima di calcoli Arriviamo a un 2,7% Di tasso netto Quindi molto simile 752 euro Vediamo ora I vincolati a due anni Abbiamo sempre banca sistema In questo caso però Anche TINAB Con i tassi lordi Di entrambi Che aumentano al 4% Qui ci sono da considerare Le tasse Facciamo tutti gli stessi passaggi Di calcoli Arriviamo circa A 1800 euro In entrambi i casi Prima di parlare Degli svincolati Che ora vi faccio vedere Quali sono i migliori Ci tengo a specificare Una cosa Sui tassi Se noi ci vincoliamo Del capitale In un conto deposito A 1 o 2 anni La banca Terrà quel tasso lì Per tutto il periodo Non lo cambia Questo perché Appunto Noi ci impegniamo A tenere la somma La banca ci impegna A pagarci quel tasso Per tutta la durata In un conto deposito Svincolato La banca Non si può impegnare A mantenere La promessa Di un determinato tasso Perché noi al contempo Non ci impegniamo A tenere i soldi lì Quindi magari Noi versiamo Dei soldi Su un conto svincolato Che paga Non lo so Il 100% Dopo un anno Però cala E va al 2% Tutto può essere In generale Di solito Comunque I tassi dei conti deposito Non si muovono A caso Ma si muovono Sui tassi Della BCE Che in questo momento Continuano a essere in aumento Ma quando dovessero essere in calo La situazione cambierà Quindi Il rendimento annuo Degli svincolati Il primo è Cherry Bank Con un lordo Del 2,8 Netto Del 2,7 Quindi con i nostri Famosi 30.000 euro Avremo 1124 euro Scalable Invece È il secondo Con il 2,3% È un netto Dell'1,7% Con un circa 1000 euro di guadagno Anche qui Corrisposti trimestralmente Questo vale per entrambi Quindi Tirando qualche somma È evidente Secondo me Che per chi Ha bisogno di liquidità A breve Magari tra un anno Due anni Perché sa che potrebbe Fare delle spese Beh Il conto deposito Secondo me È l'opzione migliore Questo perché Ci consente di avere Dei rendimenti Abbastanza prevedibili Non esagerati È vero Ma con una dose di rischio Praticamente infinitesimale Per chi invece Non ha delle spese A breve Beh Mi chiederai seriamente Se ha senso Il conto deposito Perché esistono Delle alternative Che con una dose Di rischio in più Possono pagare Dei rendimenti più alti Come ad esempio Dei BTP Per chi vuole stare Più conservativo O proprio lo stesso azionario Una cosa però È certa E voglio davvero Che lasciate questo video Con quest'idea Tenere i soldi fermi Sul conto corrente Al momento Con questo livello Di inflazione Non ha senso Non ha senso Non fatelo Ragazzi per oggi quindi è tutto Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui Fatemi sapere voi Se ne avete aperto uno Di conto deposito Visti i TAS Io probabilmente Lo cambierò il mio Perché paga troppo poco In effetti Ero rimasto poco aggiornato E niente Magari vi aggiornerò Proprio su questa cosa Per oggi quindi è tutto Un saluto E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti